uomo più bello del mondo Adam Levine no no, volevo dire te Enrico Negratta massista ecco mi ce lo volevo ero modesto io dico Maurizio Costanza fatto da Alex Turner Alex Turner la donna più bella del mondo Nicole Kidman eh ce n'è un po' dico comunque Emma Stone sicuramente Belen Cara Delevingne l'artista preferito uomo maschio stavolta Adam Levine si comunque Adam Levine anch'io Paul McCartney ma singolo sempre Alex Turner e invece l'artista preferita donna Annalisa Scarlone Zun 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 The name of the old Yocono ma anche io ricordo Annalisa Scarlone Mary One House e per il pubblico underground Lisanne per il pubblico nostro noi no no per noi è noi siamo... cosa guardi in una donna il culo se tiene il tempo c'è ragionato troppo c'è ragionato troppo questa è bella con la personalità e tette e tette ma... con la grossezza del culo che si vede agli occhi che cosa ci spiedi eh e in un uomo? passaparola leccante com'è? si la personalità guarda la personalità uguale? si anche io personalità e? no atteggiamenti confortamenti no 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 si superabilità superabilità cosa? questo qua è di un uomo il pacco ecco allora ci vergogniamo è timido